Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Muoversi in Toscana Info e nel studio Andrea Biagioni. In A1 si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Vivio con la variante del Valico in direzione Bologna a causa del traffico intenso. Fare inoltre attenzione ad una perdita di carico tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. In A11 invece si registra la presenza di un veicolo fermo in avaria tra Montecatini e Chiesino Uzzanese in direzione Pisa. Veicolo fermo in avaria anche in Fipili tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Sul raccordo Sena-Firenze si segnala la presenza di uno scambio di carreggiata a causa di lavori tra Monte Regioni e Siena in direzione Siena. Uno sguardo alle statali sulla 67 Tosco Romagnola è stato istituito un senso unico alternato a causa di lavori tra Badia, Ripoli e Sieci. Muoversi in Toscana Info è realizzata in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!